bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video importante io sono xyuder e oggi ragazzi è successo una roba su clash royale ai 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 ragazzi aprite aprite clash royale ragazzi ciao lo apro anch'io lo apro anch'io aspetta eh apriamo clash royale apro clash ragazzi andate nella sezione delle carte scorri un po scorri un po scattan guarda che cosa è successo una nuova carta sta per arrivare su clash royale è stato detto più volte che questa carta sarebbe potuta essere stata il barile di come si chiama luridi mi viene da dire luridi barbari il il barile barbaro ragazzi sembra davvero così la nuova carta che dovrebbe arrivare su clash royale potrebbe avere al quasi 100% una rarità epica e si tratterebbe secondo alcune indiscrezioni del barile barbaro ma non è che sono qua io non è che sto pettinando le giraffe ragazzi non è che io pettino le giraffe aia aia c'è un gameplay c'è un gameplay c'è un gameplay lo sapete che l'oxyuder vi ha portato la strega notturna vi ha portato l'arcere magico vi ha portato altre cose che non si ricorda sempre con una grande anteprima di solito è stato così se ne parla veramente tanto ragazzi se ne parla veramente tanto e di solito quando le voci cominciano a sfrigolare da sotto sembrerebbe che si potrebbe essere davvero così l'italiano l'abbiamo perso questo ragazzi che sto per farvi vedere è un estratto da un gameplay che ho pescacciato in internet e che mostra il barile barbaro in azione lo andiamo a vedere assieme vi ricordo ragazzi fate girare questo video super pollizioni in su se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale non dimenticatevi mi raccomando vediamolo un po guarda lì c'è un attacco del goblin germotaniere sulla sinistra guarda il barile barbaro guarda il barile barbaro guardalo qua c'è il mago elettrico lui lo lascia passare lo lascia passare costa 5 è un epica questo ce l'ha maxato attenzione prepara il barrel prepara il barrel lui gioca log rider e lui lancia il barile barbaro ragazzi incredibile incredibile l'avete visto sicuramente lo ha lanciato ragazzi guardate che cosa succede adesso prot barile che va a fare il danno alla torre barbaro che si libera a livello 13 andiamo a rivederlo ragazzi andiamo a rivederlo perché merita davvero tantissimo andiamo a rivederlo è un parolone vediamo se intanto qua si sposta tutto il coso lo rimettiamo da qua lo rimettiamo da qua datemi un sec non si sa perché ci sia questo viola fa niente ce lo teniamo perché era messo così ok guardalo lui sta preparando il barile barbaro pronto parte di prepotenza va 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 sta per attoccare la torre che ha 707 pronto 200 198 di danno a livello 8 solo per l'esplosione si libera il barbaro lo stiamo vedendo là in alto a sinistra che ovviamente a livello 13 si gira e va a martellare la torre ricordo che un barbaro a livello 13 fa parecchio parecchio male beh ragazzi questo era quanto ho trovato sul barile barbaro che potrebbe essere la nuova carta che vedremo presto su clash royale io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e noi ci vediamo presto anzi stasera nella league che andremo a fare in live buona continuazione ciao